Sarà inviata entro fine mese la lettera di manifestazione di interesse al CONI da parte del Comune di Torino per organizzare le Olimpiadi Invernali del 2026. Una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Metropolitano di Torino ha consentito alla Sindaca Chiara Appendino di ribadire che le Olimpiadi potrebbero essere una grande opportunità per la città, i territori, le valli piemontesi. L'evento, ha ribadito la Sindaca sulla linea dettata da Beppe Grillo, andrà organizzato rispondendo a criteri di sostenibilità, rispetto dei territori e delle esigenze economiche degli enti locali. Capisco i vostri dubbi, è giusta la preoccupazione di alcuni, ma dobbiamo dimostrare la possibilità di fare le cose a modo nostro, aveva scritto l'ormai ex capo politico dei Cinque Stelle. E la lettera di Beppe Grillo pare aver calmato un poco gli animi all'interno del Movimento a Cinque Stelle torinese. Restano però i dubbi e le perplessità di alcuni consiglieri pentastellati, che lunedì scorso avevano fatto mancare il numero legale in Consiglio Comunale, impedendo di fatto la prosecuzione dei lavori in aula sul tema Olimpiadi. A finire in evidenza sui giornali anche un post della consigliera Cinque Stelle Marina Pollicino, che in sintesi esprimeva tutte le sue preoccupazioni sul peso che in bilancio potrebbe avere l'organizzazione dell'evento e sulle possibili conseguenze di aumenti di tariffe o di tagli ai servizi educativi. Un chiaro segno che i mal di pancia da Olimpiadi tra alcuni consiglieri a Cinque Stelle non sono passati del tutto. Sulle reali possibilità che ha Torino di riuscire a convincere il CIO, ancora è difficile fare previsioni. Di certo non mancano i concorrenti. Il prossimo 10 giugno in Svizzera si trarà un referendum a Sion, città del cantone vallese, che ai piedi delle Alpi sembra essere la candidata ideale. Un referendum consultivo è stato anche proposto dai radicali e potrebbe alla fine levare le castagne dal fuoco alla prima cittadina di Torino. Per la cronaca a Innsbruck, al referendum per la candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, hanno vinto, seppur di poco, i no.